A seguito del notevole successo elettorale ottenuto ieri alle elezioni comunali in Bergio, il sindaco di Adano Fabio Mancuso ha inviato a Maxime Prevaux, borgomastro di Namur, un messaggio di congratulazioni. Le Sangasce, il movimento politico di Prevaux, ha ottenuto il 43,6% dei voti con un incremento del 14,3% dei consensi rispetto alle precedenti elezioni. Al riguardo Mancuso ha inviato una lettera a Prevaux che, ricordiamo, è cittadino onorario di Adano a cui esprime le sue congratulazioni per lo straordinario successo elettorale ottenuto. È un traguardo che riflette non solo il tuo impegno e la tua dedizione, ma anche la fiducia che i cittadini ripongono in te e nella visione di futuro della città, scrive Mancuso a Prevaux, l'affermazione del tuo movimento politico rappresenta non solo una tua vittoria personale, ma anche un segnale di conferma delle tue capacità di borgomastro da parte dei cittadini che trovano in te una guida per affrontare nuove sfide e cogliere nuove opportunità. È un onore per Adano, aggiunge Fabio Mancuso, vedere un nostro cittadino onorario ottenere il riconoscimento che merita. Ti confermo ancora una volta che la nostra città, gemellata con Namur, è sempre lieta di collaborare e sostenere iniziative che possano fare crescere e valorizzare le nostre comunità. Spero, conclude Mancuso, di poter celebrare insieme a te e agli adraniti di Namur questo trionfo.